Il lavoro che è stato fatto su una serie abbastanza bassa, 166 pazienti, ha sostanzialmente dimostrato come questa strategia ha un impatto favorevole sull'outcome e non solo ma anche sui costi. La società tedesca di anestesia e terapia intensiva ha messo in luce come il monitoraggio multimodale è una strategia che deve essere implementata e ha messo in luce come sostanzialmente ci sono ancora pochi centri che utilizzano metodiche che non siano solo quelle della perfusione cerebrale. Il problema qual è? È che ancora lo stato di evidenza clinica è ancora basso ma abbiamo veramente bisogno di lavori scientifici che dimostrano che un monitoraggio completo del cervello così come di qualsiasi altro organo serve per impattare sull'outcome. La domanda che dovremmo farci è questa, quali sono le informazioni necessarie per noi in sala operatoria per proteggere il cervello del nostro paziente? E per saperlo dobbiamo sapere quali sono i rischi e se sappiamo quali informazioni servono è chiaro che queste tecniche devono essere il più precise e accurate possibile perché per poter misurare la vitalità di un organo non serve sapere soltanto la pressione di perfusione ma l'attività metabolica, il flusso e l'attività elettrica per quanto riguarda il cervello perché il cervello è un agglomerato di tessuto di conduzione e il principe del monitoraggio è il potenziale d'azione. È chiaro che queste tecniche dobbiamo averle sostanzialmente disponibili in sala, dobbiamo conoscerle ma soprattutto dobbiamo avere anche la volontà di poterle mettere in campo. Quali sono i rischi? Sappiamo tutti che in sala operatoria della cardio il rischio maggiore è quello embolico ma non c'è soltanto questo e soprattutto sostanzialmente i rischi che il nostro paziente corre devono essere correlati con la sua riserva cerebrale non è la stessa cosa avere un paziente con una plasticità cerebrale ottima o un altro paziente con una plasticità cerebrale scarsa indipendentemente dall'età e questo ormai l'abbiamo capito. Pochissimi studi di auto e qui cito questo diciamo americano ormai datato ci fanno vedere come la cardiochirurgia ha un impatto sostanzialmente devastante sulla qualità di vita. Pensate a questi numeri, solo il 20% dei pazienti ritorna a fare la propria attività normale mentre il 55% si ritira dal lavoro il 13% ne esce disabile. È chiaro che il limite di questo lavoro è l'età ma sappiamo anche che i pazienti diciamo americani hanno un'età lavorativa molto più lunga della nostra. Per avere delle informazioni sull'outcome del cervello dobbiamo avere delle informazioni che derivano dall'attività elettrica perché è quella che condiziona realmente la prognosi e quindi noi dobbiamo avere degli strumenti che ci danno delle informazioni sull'ischemia ma anche sul punto in cui l'autoregolazione cerebrale viene persa. E se vogliamo avere queste informazioni e correlarle con l'outcome i segnali che più comunemente possiamo disporre in sala sono leggi e il potenziale evocato sono molto sensitivo. Perché? Perché la loro attività come potenziali di azione di membrana è sostanzialmente direttamente correlata al flusso ematico cerebrale che è un surrogato di quella che è la DO2 che può essere pressione dipendente ma anche flusso dipendente. In effetti noi non siamo ancora in grado di poter sapere qual è la pressione sotto la quale il nostro paziente perde l'autoregolazione e quindi abbiamo bisogno di sostanzialmente avere delle metodiche indirette per poterlo fare. Nel senso che noi non sappiamo se il nostro paziente autoregola a 60, 70, 50 oppure 100. Un bellissimo lavoro di John Marking ormai datato ci ha fatto vedere come in pazienti che non hanno patologia cerebrovascolare in check condotta con la metodica di Alfastat l'autoregolazione viene conservata fino a sostanzialmente valori pressori di 30-35 mm di mercurio. Quindi questo ci fa capire come in pazienti che non hanno un territorio vascolare cerebrale patologico il determinante della DO2 non è la pressione ma è il flusso e noi il flusso in sala possiamo comunque governarlo. Quindi ci sono lavori che dicono che sotto dei 50 questo indice non è correlato a un outramp negativo altri invece dicono di sì. Un lavoro, diciamo un traia recente di cui i risultati sono stati portati qualche giorno fa all'Intercept ha fatto vedere che non c'è un'assoluta differenza tra due regimi pressori profondamente diversi mantenendo però un flusso di pompa costante a 2.4. Per farvi degli esempi rapidi questo è un paziente che ha delle dighe nei tronchi sovraortici la carotide destra chiusa, la vertebrale chiusa, la carotide sinistra al 50 con più fattori di rischio che lo collano ad avere un'alta percentuale di stroke. Questo paziente viene sottoposto a un off pump e durante il sollevamento del cuore la gettata cardiaca si riduce l'indice cardiaco da 2.9 passa a 1.8 e il potenziale evocato destro viene perso. A questo punto non possiamo aumentare la portata cardiaca perché il cuore è fisso in quella posizione possiamo aumentare solo la sua pressione, la pressione di perfusione e il potenziale sostanzialmente ricompare. Qui era assente, qui alla fine sostanzialmente ricompare. Un altro caso totalmente diverso a questo, un paziente di 40 anni in check, valvola mitralica, cardioplegia custodioli in questo caso ha una profonda vasoplegia, abbiamo 30 di pressione per circa 10 minuti e gli indici elettrici, sia le G che anche i potenziali, sono normali. Quindi questo ci fa capire che noi non abbiamo delle informazioni corrette sull'autoregolazione se non le correliamo con un indice di, diciamo, funzione forte. Vediamo se parte questo. No, questo era quello di prima. Quindi questo indice molto forte è il PES che è correlato alla DO2 che come, diciamo, avete visto è sia pressione ma anche, diciamo, flusso dipendente. Questo perché al di sotto della soglia clinica l'ampiezza del potenziale si riduce al di sotto di un valore soglia e quello è il nostro warning sostanzialmente per l'ischemia. E G e PES non sono la stessa cosa perché hanno una differenza, una diversa sensibilità nei confronti dell'insulto ischemico ma anche dell'anestesia nel senso che le G risente di più dell'attività sinaptica che è molto più labile all'effetto dell'ischemia e all'aumentare di questa soppressione noi perdiamo attività spontanea mentre l'attività, diciamo, evocato forte viene mantenuta. Per farvi un esempio a 25 gradi in questo caso abbiamo l'EG piatto e il potenziale presente con un'anestesia profonda in questo caso c'era ancora l'isoforano abbiamo un EG che è in BAST ma il potenziale è presente un insulto ischemico in questo caso porta un'alterazione del tracciato EG ma non altera il PES questa strategia cioè questo diverso comportamento di questi due segnali elettrici che noi possiamo utilizzare in modo semplice in sala ci dà delle informazioni importanti sulla strategia neuroprotettiva che noi possiamo esplodere cioè noi possiamo mantenere il cervello del paziente completamente addormentato e soppresso avendo l'EG come marker di questa soppressione e monitorare l'integrità forte strutturale del tessuto nervoso attraverso il potenziale questo è un esempio di un insulto embolico gassoso in questo caso il DOPR diciamo trascranico si satura completamente di aria e per dirvi come l'insulto embolico gassoso in sala operatoria è tra gli eventi più dannosi e più frequenti che noi possiamo diciamo incorrere senti che roba l'aria non fa bene agli organi e tanto meno al cervello e questa è la risonanza di un altro paziente non quella di prima a 36 ore e come vedete c'è un premo encefalo ci sono dei buchi d'aria soprattutto nelle zone diciamo nelle zone frontali perché la la cerebrale anteriore va verso l'alto e quindi l'aria prende la via antigravitazionale che cosa che pattern elettrico abbiamo un EG profondamente depresso e i potenziali presenti questo ci dice che il paziente si sveglierà ma potrebbe avere un outcome motorio e diciamo cognitivo estremamente depresso ed è per questo che se noi abbiamo la possibilità di monitorare queste informazioni anche dal punto di vista morfologico l'unica soluzione per impattare l'outcome di questo paziente è sottoporlo alla camera iperbarica e in Francia per esempio so perché me l'aveva detto il chirurgo con cui ho lavorato molto c'è una a Parigi c'è una camera iperbarica fuori proprio fuori della sala operatoria il potenziale è strategico per noi in sala perché resiste all'ipotermia fino a 27-28 gradi l'ampiezza di questo segnale aumenta dopodiché diciamo scema e questo ci dà forza sulla possibilità di utilizzare questo strumento anche in condizioni estreme vedete 30 gradi siamo qui quello rosso è a 36 qui siamo a 26 23 22 abbiamo ancora la possibilità durante una un'accazui di poter monitorare l'integrità elettrica del nostro cervello e questo è un video che vi fa vedere proprio questo siamo a 5 siamo a 4 litri di flusso 26 di diciamo temperatura nasofaringea il flusso al Doppler diciamo destro sinistro è praticamente normale l'EG è sostanzialmente piatto ma abbiamo la possibilità di misurare l'integrità attraverso i potenziali che come vedete sono ottimi se abbiamo soltanto il Doppler non abbiamo la funzione elettrica come possiamo utilizzare questo strumento per avere delle informazioni indirette sulla funzione cerebrale attraverso dei test di autoregolazione cioè se noi abbiamo 40 sostanzialmente di pressione e pompiamo nel sangue il CO2 facendo un test dell'apnea oppure in check diciamo lasciando dentro il CO2 la velocità media aumenta e questo ci dice che il cervello è in grado di reagire sostanzialmente vasodilatandosi se non c'è questo vuol dire che in quel caso il flusso ematico cerebrale è pressione dipendente e questa è la diciamo situazione veramente rischiosa dopodiché se noi abbiamo un'attività una velocità di flusso che cala con l'attività metabolica è chiaro che quel cervello è in grado di autoregolare in modo normale così come dopo un arresto di flusso la risposta transitoria iperemica è un segno di buona regolazione comunemente in check noi troviamo un'attività di vasomotion cioè è quel vasomotion che si riflette anche sulla pressione arteriosa ma noi non siamo in grado di poterla vedere e questa attività che comunemente riuscite ad esplorare è già di per sé un indice di ottima autoregolazione andiamo alla NIRS moltissimi studi sono stati fatti ma sull'adulto non c'è ancora l'evidenza che sia un sistema preciso ed accurato e capita spesso a me capitava spesso di assaggiare come durante l'ipotermia il segnale della NIRS scende questo non è un comportamento normale se pensiamo che la NIRS misura l'attività corticale frontale perché dovrebbe salire avendo ad opere segnali normali e anche elettrici normali studi fatti in pazienti che vanno verso la morte encefalica ci fanno vedere come in modo parallelo alla diminuzione dell'ossigenazione corticale intracerebrale la NIRS rimane comunque alta quindi probabilmente questo segnale non misura il cervello ma misura qualcosa che sta al di fuori e questo è stato messo in evidenza anche da più di qualche lavoro di questo autore canadese che ha messo un manicotto pressorio sulla fronte e ha visto come il segnale che ne usciva da NIRS era profondamente contaminato dall'inquinamento extracerebrale proveniente dall'appunto carotide esterna su un campione piuttosto giovane diciamo 18-40 anni in pazienti in pazienti più più anziani scusate dove l'atrofia cereale è ancora maggiore questo gap sarebbe ancora più alto cosa possiamo fare nell'adulto possiamo testarla con dei test attivi per capire se campiona veramente il cervello facendo uno shock ipotermico utilizzando la Nora utilizzando i clamp ma soprattutto chiedendo a chi ci propone queste macchine di avere anche il segnale superficiale perché se il segnale profondo è uguale a quello superficiale significa che non stiamo campionando il cervello nei confronti dell'attività della diciamo cardiochirurgia pediatrica invece la NIRS ha un'ottima correlazione con l'SGO2 perché il dipolo che essa fa entra direttamente sostanzialmente dentro alla corteccia non è così per i nostri pazienti che hanno spesso un'atrofia cerebrale ho ancora qualche minuto uno lo scenario della terapia intensiva è quasi sempre sostanzialmente dedicato alle metodiche di funzione elettrica perché noi vogliamo fare la prognosi del nostro paziente che non si sveglia e sapere perché ora per avere queste informazioni la combinazione del potenziale evocato sommato sensitivo e dell'EG è estremamente strategica perché perché se voi trovate un'attività elettrica continua cioè trovate un EG ricco l'outcome sarà sempre buono e il trucchetto per capire queste informazioni è sostanzialmente correlare l'attività elettrica cerebrale alla similitudine cito architettonica dell'albero se le foglie dell'albero sostanzialmente rappresentano l'attività più sensibile della nostra corteccia che è espressa dall'EG quando voi trovate un EG ricco trovate delle foglie ben diciamo ben rappresentate è chiaro che anche i rami sottocorticali sono presenti e quel paziente avrà sempre un buon outcome il problema è quando non avete un EG favorevole in quel caso dovete esplorare il potenziale evocato nel caso del coma post-anossico che è il paziente più facilmente ricoverato nelle nostre terapie intensive il fatto di trovare un potenziale presente come tirare la monetina 50% non sapete se andrà bene oppure andrà male in letteratura però ci sono ci sono dei lavori che dicono che l'associazione dell'N20 associata a una componente a media latenza cioè a un'integrazione del segnale elettrico più tardiva è un segnale favorevole molto forte di buon outcome perché questa componente è legata a delle aree associative comprese quelle del dolore questo potenziale supplementare è possibile stimolarlo con una sorta di stress test aumentando l'intensità di stimolo sul nervo mediano provocando dolore al nostro molato quindi facendo una sorta di Glasgow di tipo neurofisiologico e la dimostrazione che questo potenziale è il risultato delle fibre del dolore sta nel fatto che se noi facciamo un'anestesia locale sul nervo blocchiamo le fibre del dolore ma non le fibre tattili proprio eccettive è la dimostrazione del vantaggio dell'anestesia peridurale il paziente riesce a camminare a una sensibilità proprio eccettiva conservata ma non sente il dolore proprio per questo motivo qui questo potenziale però partecipa a questo potenziale supplementare ad un network che è molto più complesso rispetto a quello che è espresso dall'area diciamo somato sensitiva primaria quindi se lo troviamo e le dimostrazioni positive ci sono anche perché c'è un correlato anatomico che esprime queste aree il paziente avrà un buon outcome quindi la conclusione è la domanda è essenziale è una domanda retorica per la mia posizione per cui l'auspicio è che comunque nel prossimo futuro ci siano più centri che abbiano la possibilità e la forza e anche la volontà non essendoci degli studi ancora forti per poter promuovere questa metodica grazie per l'attenzione grazie grazie Paolo ci sono domande grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti